buongiorno siamo già svegli Simo dorme ancora io sto già facendo una giornata anche oggi guardate che bello oggi ho portato fuori i cagnoloni e poi andiamo a fare una bella dronata se riusciamo perché qua ci sono le piante troppo in montagna troppo basse quindi non si riesce andare sopra più di tanto proviamo a vedere vediamo cosa succede oggi è un'altra giornata dovrebbe arrivare un'altra persona a trovarci e stasera si griglia un'altra volta ma qua c'è una bella fonte l'acqua cosa sarà 8 gradi anche meno è sempre fredda allora qui abbiamo anche il barettino guardate un po come si chiama dal 24 al 4 non c'è già più il limite lì lì l'ho visto che erano stati ah ok erano metodo classico abbiamo fatto la pasta con i profumi delle sempre delle alpi apuane e abbiamo un altro amico ciao ragazzi wild ciao il canale youtube con lei che non mi ricordo fabio il wild perfetto adesso ci mangiamo ciao i full timer piemontesi non si contano tutti sul tubo è vero ed è molto bello e abbiamo un po' ecco la ripresa secondo round è un po più ciccia questa è un po costine piedini e anche salamelle ma cosa stiamo facendo qua il simone affumicato che spettacolo gente tutti pronti per mangiare qui siamo pronti per una delle riprese cinematografiche la costina e mangiamo voi avete già mangiato per forza di cosa la grigliata è venuta bene perché è uno che filtra la carbonella giustamente e se la mettevi come dicevo io sulla griglia era accesa da quel dì ha fatto la pioggia in cima ai legni via via per essere la seconda volta che fa il fuoco è stato abbastanza bravo ha visto gente che non gli riuscì allora domani lo facciamo con l'acciari ciao 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 se pulisci il filtro è finita oh mi è capitato a cambiare una volta è diventa plastica ci facciamo qua nel bosco giardino una pasta molto selvaggia pasta wild e la facciamo grande mario abbiamo portato la 220 qua nel bosco e via spettacolo non c'è trucco non c'è inganno non c'è la nostra inizia la nostra inizia non c'è ingerito la nostra pasta wild al pesto abbiamo messo quelle stronzettate qua dentro e poi ci mettiamo sopra ancora del pesto mettiamo così il formaggio grattato così wild sempre wild buon appetito ragazzi altrettanto a voi e grazie dell'ospitalità simone full timer garfagnoli grazie a voi di essere qua con me quelli che vivono in alaska e poi dici che sei anche te in alaska ragazzi vedrete come si smerde Simone tu secondo me stiamo facendo un caffè wild vediamo come smerdere simone un caffè wild su una pentola girata al contrario su un tavolo con la cerata sopra nel bosco si comunque vediamo un po quante c'è qua 8 caffè qua ci vengono e da 6 si si butta proviamo accendere con l'accendita ora partiamo così di uscire solo due secondi è pronto eh neanche al bar sono così svelti è già acceso è già sbardato simone subito ragazzi si va velocissimo e beh ma il cotone imbevuto di chissà che cosa qui parla 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 stava cadendo tutto ecco vieni che li metti dritti mamma mia povero tavolo di simone e vediamo il caffè dopo non guai ragazzi c'è poco da fare non è possibile un lavoro del genere grande Fabione vedrai che non prende neanche il manico guarda come si nasconde guarda si sta smerdando da solo ragazzi bravo Mario ti ringrazio di averci messo le mani grande mamma mia mamma mia ahahahahah ahahahahah ci mettiamo questo così sta venendo su c'è? abbiamo il papa abbiamo il caffè ma guarda eh simone se ne va guardate simone che se ne va con la coda però le gambe va amareggiato a prendere la grappa ragazzi ahahah te ne va amarezzata ahahah il caffè fatto sul fuoco caffettiera se ne è andata è tutta nera tutta nera ma quella va via si è nero diamo una pagliettina faccio fare a mia figlia a mia figlia al massimo ma scusami ma via con poco senti 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 come sfrigo là grande Mario ringrazio ringrazio anche tu grande grande prima ringrazio con bellissima direttamente ringrazio con bellissima bellissima al bellissima bellissima